Ed eccoci ancora Mixer Village, facciamo un'altra pausa all'angolo del caffè, una bella pausa ci vuole, arrivati in questo momento della giornata, con un caffè Portioli rinnovato nel packaging, ma non solo nel look e anche nei contenuti perché ci sono delle novità al passo coi tempi, quali? Un'esperienza nuova qui a TuttoFood, il primo anno grazie all'iniziativa di Mixer Village e quindi abbiamo voluto presentare una nostra nuova linea di macchine, la linea di macchine per cialde, la nuova nata Vera in casa Gime perché l'azienda, quindi il gruppo Portioli, si combina di una torrefazione nata circa 50 anni fa e un'azienda di Gime che produce e realizza macchine da caffè nel canale professionale. Insieme a Vera abbiamo presentato anche il nuovo granitore che è appunto il macchinario per realizzare la nostra vellutata caffè, un prodotto fresco, naturale, con ingredienti controllati anche a livello calorico in modo tale da proporre una pausa a caffè diversa ma sempre con l'attenzione e strizzando l'occhio alla linea. Cosa vi aspettate da questo evento? È un'esperienza diversa, quindi in realtà volevamo essere presenti insieme a tutti i nostri colleghi e all'interno di un villaggio che ha dei grandi marchi, quindi grazie a questo una visibilità, proporre il nostro marchio in modo diverso, così come si vede appunto dal packaging che rinnoviamo, i nostri colori, quindi essere insieme alle novità che vengono proposte.